Ottavio Bottecchia, Gino Bartali e Fausto Coppino hanno vinto due volte. Gastone Nencini, Felice Gimondi, Marco Pantani e Vincenzo Nibali una volta a testa. Messi insieme sono dieci successi che hanno fatto arrabbiare i francesi. Sono gli italiani che hanno tronfatto il Tour de France, storie di grandi campioni e di uomini quasi leggendari che Claudio Barbieri e Alberto Pontara hanno voluto raccontare nel loro libro presentato Palazzo Farnese. Un evento organizzato dal Panatron Piacenza alla Primogenita e che fa parte delle iniziative di avvicinamento alla tappa piacentina della Grand Boucle. Siamo in attesa di un evento storico unico e io dico da un po' di tempo irripetibile perché almeno per Piacenza se il Tour de France dovesse decidere ancora di partire dall'Italia difficilmente sceglierebbe la stessa location. È un evento davvero incredibile il Tour de France, è il terzo evento sportivo al mondo più seguito ed è anche una grande occasione per tutto il ciclismo italiano. Un libro al vostro che racchiude tante storie, qual è quella che l'ha colpita di più o anche incuriosita? Quella che mi ha colpito di più è chiaramente quella di Fausto Coppi. Io sono nato a Voghera, a circa una quindicina di chilometri da Castellania, che è il luogo natale di Fausto Coppi e quindi fin da piccolo ho sempre sentito raccontare storie, aneddoti e curiosità su questo grande campione da persone che l'hanno conosciuto di persona, compreso mio nonno. Una delle curiosità che mi ha divertito di più riguarda un Tour de France vinto da un italiano, da Gastone Nencini. La penultima tappa passa davanti a casa di Charles de Gaulle e il direttore di corsa decide di fermare la tappa davanti a casa di De Gaulle ma il gruppo si ferma, molti non capiscono bene perché ci si stia fermando e questo corridore francese Pierre Beffeuil ne approfitta per andare in fuga e vincere la tappa dichiarando poi io ho sempre votato de Gaulle. Questo episodio mi ha sempre fatto molto sorridere.